buongiorno a tutti io mi chiamo lucrezia benci venga e sono un insegnante di pilates oggi vi mostro una serie di esercizi che potete fare tranquillamente a casa vostra per il rinforzo degli addominali ci mettiamo sdraiati a terra con le ginocchia piegate e le mani dietro alla testa buttando fuori l'aria sollevate la testa e le spalle in un crunch potete eseguire questo esercizio per 20 volte dopodiché mettiamo le gambe al tavolino le braccia lungo il corpo leggermente sollevate da terra solleviamo la testa e le spalle facciamo oscillare le braccia verso il basso per 100 volte tenendo una respirazione fluida e continua se avete male al collo in questo esercizio potete continuare a farlo appoggiando la testa e le spalle al materastina prossimo esercizio tenendo le gambe a tavolino metto le mani ai lati delle ginocchia sollevo sempre la testa e le spalle e ispirando stendo braccia e gambe anche di questo faccio 20 ripetizioni e anche qui se avete male al collo appoggiamo spalle e testa a terra ultimo esercizio incrociamo le caviglie braccia lungo il corpo butto fuori l'aria sollevo il bacino e le gambe verso l'alto anche qui 20 ripetizioni questo circuito può essere eseguito se volete anche due o tre volte per intensificare il lavoro buon allenamento a tutti e io mi alleno da casa grazie a tutti